Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima di sostenerci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al canale con l'attivazione della campanella su tutte le notifiche così da poter ricevere tutte le novità ed esclusive relative al meteo in Italia, momento per momento, e grazie per il supporto, se è pioggia molto forte accompagnata da forti temporali con il rischio di cadere grandine grandine, e il pericolo di allagamenti, e questa è la sera e la notte di oggi, giovedì 6 luglio 2023, in tutte le regioni settentrionali del paese da est a ovest. E questi temporali saranno attivi a partire da oggi, giovedì pomeriggio, e proseguiranno fino alle 9 di sera, e le regioni interessate sono tutte Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e, come dicevo, l'attività di questi temporali sarà sorprendente ed è molto difficile prevedere la quantità di pioggia che porta, quindi è richiesta e forte cautela nelle aree menzionate in questo video, e qualsiasi altra novità importante di cui ti informeremo in seguito, e alla fine, purché tu sia in buona salute.